Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Come ben sappiamo John il celebre attore si è esibito al Festival di Sanremo. Tutto è accaduto all'esterno del Teatro Ariston dove l'attore assieme ad Amadeus e Fiorello si è esibito nel ballo del Qua Qua Dance. Si è trattato di una delle circostanze più discusse della seconda puntata del Festival di Sanremo. E Leonora Daniele, nel suo programma Storie Italiane, ha informato però che il balletto in questione non andrà più in onda in quanto l'attore non ha firmato la liberatoria per la messa in onda della scena. Il motivo? Il siparietto è stato giudicato da più parti abbastanza imbarazzante. Listen to me, John. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale. In Italia c'è l'imno nazionale e poi questo ballo. La Qua Qua Dance così avrebbe detto Fiorello rivolgendosi allo stesso John. Ma l'attore appunto non ha firmato la liberatoria. Il cachet dell'attore si aggirerebbe secondo i beni informati a circa 200.000 euro. La cifra, secondo fonti consultate dall'ADN Kronos, non comprende le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso. In quanto l'attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato e da qui si è spostato a Sanremo.